Non critichiamo i giovani ma creiamo per loro vere opportunità di lavoro e di futuro. Così Papa Francesco a Panama alla veglia con 600.000 giovani della GMG provenienti da tutto il mondo. Oggi l'ultima giornata. Inviati Marco Clementi e Marco Sanga. Maria è l'influencer di Dio, usa il linguaggio dei social, non basta essere sempre connessi per essere amati. Sul palco vicino a Bergoglio ci sono la mitria e la reliquia della camicia insanguinata di Romero, il vescovo che difendevi i poveri. Troppo facile criticare i giovani se li priviamo di opportunità lavorative, educative e comunitarie, dice Francesco. Prima della riflessione del Papa si alternano le testimonianze di un ragazzo con un passato di tossicodipendenza, una cristiano palestinese e una famiglia di Panama con una bimba disabile. La veglia è anche una festa di popolo, bandiere di tutti i paesi dell'America Latina e buona parte del resto del mondo, balli e musica sul palco. L'entusiasmo della moglie del presidente di Panama, la primera dama, è un'emozione grandissima, poter unire tutta l'America in un solo luogo e poi l'Europa, l'Asia, l'Oceania, l'Africa, tanta gente di tanti paesi che si sentono come a casa propria. Mi casa è su casa. Poi silenzio, raccoglimento, 600.000 ragazzi in preghiera davanti al Santissimo, in questa grande spianata di terre ed erba secca vicino al Pacifico. hanno passato la notte nei sacchi a pelo in attesa della messa conclusiva.